Perché l'orario delle telecamere della scuola di polizia, che riprendono il passaggio di Liliana la mattina della scomparsa, è stato spostato dagli inquirenti 5 minuti avanti? Con quale criterio? La scomparsa della 63enne Liliana Resinovic porta un nuovo mistero, riguarda le telecamere. A descriverlo è l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente di Penelope e legale del fratello di Liliana, Sergio Resinovic. Liliana è la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre del 2021 e trovata morta in un boschetto il 5 gennaio del 2022. Per la procura, chi ha chiesto l'archiviazione del caso, la donna si sarebbe suicidata. La famiglia non è d'accordo e si oppone alla richiesta. Le telecamere rappresentano un punto importante di questa storia. La mattina della scomparsa, secondo la ricostruzione della procura, il sistema di videosorveglianza della scuola agenti allievi della polizia di Stato riprende il passaggio di Liliana alle 8.41 e 26 secondi, alle 8.41 e 33 secondi e alle 8.42 e 12 secondi. Ma per gli investigatori le telecamere non sono state tarate all'orario giusto. Gli orari effettivi, secondo la procura, sarebbero rispettivamente 8.46 e 26, 8.46 e 33 e 8.47 e 12, esattamente 5 minuti dopo. La pensionata camminava con tre buste di nylon, una stretta nella mano destra, due nella sinistra. Alle 8.43 e 17 secondi, orario effettivo per gli investigatori 8.48 e 17, una telecamera la riprende mentre attraversa la strada e giunge a guardiella, getta la spazzatura nei bidoni della raccolta differenziata e imbocca subito via San Cilino, verso Piazzale Gioberti, 8.43 e 27, orario effettivo 8.48 e 27. Alle 8.50 e 24, la donna viene ripresa dalle telecamere di un autobus mentre raggiunge la chiesa cattolica parrocchiale di Piazzale Gioberti. Alle 8.50 e 28, viene ripresa per l'ultima volta. Scrive la procura. La Resinovic scompare dalla visuale dell'autobus, in direzione via San Cilino. È la strada che porta al boschetto dove verrà ritrovato il corpo senza vita 22 giorni dopo. Questa ricostruzione, secondo l'avvocato Gentile, ha alcune anomalie. La procura sostiene che le telecamere della scuola di polizia non erano tarate sull'orario effettivo. Il gap, la differenza tra l'orario riportato e quello effettivo, è di 5 minuti, ma a tale circostanza non è verificabile, in quanto si dice solo che l'orario riportato dalle telecamere risulta indietro di 5 minuti rispetto all'orario effettivo, senza specificare in che modo ciò è stato accertato. Gentile, fa notare che non è stato eccepito nulla sull'orario delle telecamere dell'autobus, che per gli investigatori hanno ripreso il passaggio di Liliana alle 8.50, due minuti dopo l'ultimo avvistamento. Continua l'avvocato. Non è dato sapere se è stata verificata la conformità anche di questo orario. Per l'avvocato della famiglia di Liliana, non ci sarebbe differenza tra l'orario del passaggio della donna e quello segnato dalle telecamere della scuola di polizia. Per lui è sbagliato spostarlo di 5 minuti in avanti e chiede altri approfondimenti su questo dato. Quei 5 minuti possono cambiare tutta la storia. Se Liliana fosse passata davanti alla scuola di polizia tra le 8.41 e le 8.43 e non 5 minuti dopo, non sarebbe lei quella ripresa alle 8.50 in piazzale Gioberti, distante poche decine di metri dalla scuola di polizia e dai bidoni della raccolta differenziata. Nella ricostruzione di Gentile, Liliana avrebbe impiegato poco più di un minuto per arrivare in piazzale Gioberti. Poi, resta il mistero se quella ripresa in piazzale Gioberti fosse davvero Liliana. Per il fratello Sergio, no. Continua Gentile. Nessun accertamento è stato compiuto per verificare la compatibilità del soggetto ripreso. Si poteva perlomeno individuare l'altezza prendendo come riferimento i punti fissi che si colgono dalle videoriprese, tra i quali i cartelli stradali o la sagoma dell'autobus. In ogni caso, è del tutto inverosimile che il soggetto ripreso dalla telecamera dell'autobus possa essere la Resinovic. C'è un altro aspetto che per Gentile è stato valutato superficialmente se non del tutto sbagliato. Per gli investigatori, la giornata di Liliana, il 14 dicembre, è iniziata con una bugia al suo amante, Claudio Sterpin. Al mattino i due, secondo quanto raccontato dallo stesso Sterpin, si sarebbero dovuti incontrare a casa di lui. Liliana, verso le 8 e 20, gli scrisse un messaggio per avvisarlo che avrebbe fatto tardi perché doveva andare in un negozio di telefonia. Per la procura, quella di Liliana era una bugia, detta per guadagnare tempo, in quanto voleva che il suo piano per suicidarsi andasse liscio. Per la famiglia, la donna disse la verità a Sterpin. Continua Gentile. Se lo scopo di Liliana era quello di andare al boschetto per suicidarsi, avrebbe potuto imboccare un'altra strada. Da casa sua, infatti, ce n'è una più comoda. Per andare al negozio di telefonia, la direzione era esattamente quella che aveva preso. Prosegue Gentile. Qualora avesse davvero voluto uccidersi, avrebbe potuto dire a Sterpin che quella mattina non poteva andare da lui. In questo modo avrebbe avuto tutto il tempo per mettere in atto il suo proposito. Avrebbe persino potuto farlo all'interno del proprio appartamento, tenuto conto del fatto che, come è stato accertato, aveva in casa quanto necessario per compiere il gesto estremo. Buste della spesa, cordino, sacchi neri. Il caso Resinovic rimane un giallo, cominciando dalla data della morte della donna, circostanza mai chiarita neanche dagli investigatori. Secondo il medico legale incaricato dalla procura, Lilli sarebbe morta due o tre giorni prima del suo ritrovamento nel bosco, 20 giorni dopo la sparizione. Ma se gli investigatori ritengono che stesse andando al boschetto il 14 dicembre, come hanno fatto a stabilire la data del decesso al 2-3 gennaio? È una grave discrepanza. Un giudice dovrà presto pronunciarsi sulle opposizioni alla richiesta di archiviazione e decidere se chiudere il caso o continuare l'inchiesta. Tutti sperano nella seconda opzione. La morte di Liliana ha bisogno di risposte.